iniziamo col calendario dei conetti oggi è 22 chissà qua sotto e questa si chiama baked apple quindi sicuramente ci sarà la mela che buona venerdì dovrebbe arrivare il bruciatore per coni non vedo l'ora quindi questo è il primo l'angelica ecco qua la 22 mamma come profuma sto calendario e questa è emozioni al cacao puro cacao 95 per cento che dà vitalità ottima poi mi fa le masse pochissime essence casellina 22 sempre uguale ok il carino è un beauty è una pochettina you are natural beauty by essence ma che carina davvero stupenda grazie scusate il chaos adesso ivas 22 stalla ivas rossi e casellina 22 e troviamo questa sia una maschera due in uno per capelli riparazione dice quindi lo fa l'italiano oddio madonna che complicati che so eccolo qua allora dice maschera due in uno riparazione per capelli danneggiati prima o dopo lo shampoo lasciare in posa e risciacquare stop ok perfetto è un 35 ml perfetta insomma per trovarla ok 22 stacqua sotto prendiamo la salire forbisine non mi c'entra più niente ok 22 rituals e qua sotto che cosa abbiamo già difficile tirato ok ok allora della linea tulip e già il japanese yuzu body mist quindi sarebbe acqua leggera per il corpo interessante da provare grazie 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 quindi richiapitolando il conetto alla mela che abbiamo trovato oggi poi tisana emozione al cacao puro cacao 95% essence questa pochettina penso che sia fatta con tessuti naturali infatti c'è scritto yoara natural beauty carinissima i vesti rocce abbiamo trovato questa maschera due in uno per capelli danneggiati e della ritual quest'acqua per il corpo leggera carini a domani ultima casellina dei calendari dell'avvento la 23 dei conetti si trova qua ah e troviamo pino come l'alberello sembra un alberello in miniatura mmm che buono che a mamma mia poi l'angelica casellina 23 mi sa che sta qua mi la vedo qua c'è la 24 eccola qua ok quindi emozione al cacao se cacao caffè e mandorla buona a domani con l'ultima poi 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 23 essence 23 essence pesantina questa è la scelta Nicola da da meraviglia una palette questa è il Los Angeles che bella che è bellissima con questi toni sul rosa bella ovviamente bella 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 mi piace anche molto il pack quindi grazie essence bellissima ma che bella che è poi Ives 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 23 sta là sotto ok Ives Rocher casellina 23 cosa c'è cosa c'è ha una crema per le mani questa edizione natalizia che è appunto arancia arancia fondente interessante che bello anche il pack grazie un full size questo eccola qua inquadriamoci rituals casellina 23 ci servono i forbicini come al solito eccola qua 24 che bella questo pack rosso grande è della linea di ritual of ayurveda e questa è una crema per il corpo con rosa indiana e mandorla dolce olio di mandorla dolce che bello che bello è da 70 ml bellissimo il pack grazie quindi quindi ricapitolando il conetto al pino angelica emozioni al cacao con cacao caffè e mandorla essence la bellissima palette e il Los Angeles penso bellissima comunque adoro anche il pack con questi colori molto molto bella anche un bello specchio essence e si essence i vesti rocher la crema per le mani arancia fondente e rituals crema per il corpo con rosa indiana e mandorla dolce olio di mandorla dolce a domani con l'ultima ciao ciao allora ultime caselline dell'anno quindi apriamo la 24 che è qua e qui troviamo incense mir la mirra eccola qua che bello davvero bello mi è piaciuto tanto questo calendario allora ultima casellina per quanto riguarda l'angelica casellina 24 eccola qua sotto non si apre questa ok ce l'abbiamo fatta e troviamo emozioni al cacao cacao cocco e caramello mamma mia deliziosa bellissimo anche questo di calendario ciao all'anno prossimo con l'angelica allora questi sono finiti ok quindi essence ultima casellina super super pesante wow bellissima una palette olografica e questa è la Witch Side e i shadows ma che bella i colori sono bellissimi davvero stupendissima ho amato alla follia il calendario dell'Essence ho pagato poco ma ho amato tutti i prodotti ricevuti all'interno quindi all'anno prossimo anche con Essence poi i Vest Rocher anche qui l'ultima casellina la 24 dov'è? 23 eccola qua gli occhietti del cosetto e troviamo ah che bello il mascara Intense Metamorph bellissimo edizione natalizia grazie sempre questo si può togliere ok quindi ultima casellina anche per il fantastico calendario di Rituals eccola qua e qui troviamo un prodotto grandissimo che cos'è? The Ritual of Jing quindi una lozione per le mani rilassante bella mi piace è un formato da 70 ml bellissimo anche questo è un calendario romato all'anno prossimo con i calendari dell'avvento ciao ciao a tutti ragazzi oggi facciamo lo spacchettamento dalla casella numero 20 a quella 24 solo che la 24 è su Natale con Nico allora apriamo la 20 per prima dove sei 20 eccola Kinder Maxi buono eccolo qua mini Kinder Maxi buonissimo 21 21 Kinder Cereali 22 dove sei? 22 eccolo Kinder Cereali 23 eccolo Kinder Maxi quindi 2 e 2 e il 24 è Natale con Nico ciao 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 Grazie a tutti